Ha generato dibattito il nostro servizio della scorsa settimana che poneva in evidenza come avvigevano nei pressi di supermercati di recente o prossima costruzione ci fossero aree commerciali dismesse e abbandonate ed è la tendenza a preferire le nuove edificazioni rispetto al recupero dell'esistente. Alcuni telespettatori hanno fatto notare come in alcuni casi la costruzione di una nuova area commerciale si sia effettivamente accompagnata al recupero di un'area dismessa. L'osservazione è corretta ma è anche accaduto come all'ex Adamello che la ristrutturazione di un vecchio capannone sia stata utilizzata come spunto per aumentare le emetrature del 65% con conseguente abbattimento di un filare di alberi imponenti sacrificati sull'altare del parcheggio. Sul versante politico registriamo la presa di posizione di rifondazione comunista da tempo critica sulle scelte urbanistiche della giunta vigevanese. In territorio scrivono dal circolo cittadino del partito è patrimonio di tutti e non opportunità di pochi. Peccato che l'attuale amministrazione come le precedenti sia insensibile maggioranze o opposizioni unite mentre dovrebbe avere a cuore il consumo del territorio che nuove inutili aree commerciali provocano. Da rifondazione anche un richiamo ai soldi che il comune incassa dalla costruzione dei capannoni. Gli oneri di urbanizzazione sostengono non hanno mai giustificato il degrado cittadino.